Come ci sono finito a casa di Andrea Bocelli, a bordo di una carrozza del 1920, in fondo a una cava di marmo, ma soprattutto in mezzo a queste huracan? Beh, andiamo per ordine. Tutto è cominciato alla stazione Termini di Roma. Il grano centrale delle 11.50-80 minuti di ritardo per adesso. Facciamo che facciamo la vecchia maniera, va? E la vecchia maniera in questo caso è la GLE Coupé Restyling 2023. Niente male. Quattro ore e mezza di guidato dopo, sono arrivato a destinazione e per farvi capire dove sono mi basta semplicemente un'inquadratura, scommettiamo? Beh, niente male. Ho lasciato la GLE nel parcheggio e adesso questo diventa il mio mezzo per la serata. Direi, niente male. Un'altra ora di viaggio, però sono convinto che non mi peserà per niente. Destinazione? Il Palazzo di Varignana. Un albergo che dentro sembra quasi un museo e con una stanza, beh, niente male. Foto al numero della camera, altrimenti me lo scordo, e dopo essermi perso veramente tra i corridoi, è l'ora di cena, ma a quel punto la prima sorpresa. Tutto organizzato dentro un'autentica carrozza d'epoca classe 1921 appartenuta ai Savoia e restaurata nei dettagli grazie ad architetti, storici dell'arte e esperti di treni di lusso dell'epoca. Portate all'altezza di una famiglia reale e poi dritto a letto perché domani sarà una giornata lunga. Ore 7.34 del mattino e stiamo per partire. Sì, ma per dove e per fare che cosa? Beh, Lamborghini ha organizzato un evento che si chiama Ultimate Huracan Drive per celebrare i 10 anni di questo modello e come vedete infatti c'è tutta la gamma al completo. Tecnica STO, Sterrato e anche la Evo Spider. Faremo circa 600 km partendo da qui vicino a Sant'Agata Bolognese e poi raggiungendo la Toscana e poi il giorno successivo tornando indietro. Io comincio proprio con la Sterrato e il resto facciamo che ve lo racconto direttamente in movimento. Buffo, comincio proprio dall'ultima delle Huracan ma non poteva andarmi meglio in realtà prima perché non avevo mai provato la Sterrato ma poi perché dovendo attraversare Imola è quella con l'assetto giusto rialzato di 44 mm rispetto alle altre e questo fa sì che lei sia preparata ad affrontare terreni molto più insidiosi che qualche asperità cittadina. De fatto quest'auto è un capolavoro di tecnica e devo dire mai avrei pensato che una Huracan potesse essere così comoda. È impressionante e ancora non ho messo la modalità rally. Ma per quella vi rimando direttamente al video di Andrea che l'ha provata come si deve in mezzo all'impolverato deserto californiano insieme alle dune di Dubai il posto perfetto per la Sterrato. Più esotica di lei non ce n'è. Una rarità da vedere, figuriamoci, da guidare visto che è fatta soltanto in 1.499 esemplari e questo rende il tutto ancora più speciale. Momento motivazionale. Se mai ti sei sentito inutile nella tua vita ricorda, poteva andar peggio. Potevi essere lo specchio retrovisore di una Huracan sterrata. Prima sosta lascio la Sterrato in buona compagnia in mezzo a tutta la famiglia e visto che sta per arrivare un mal tempo di quelli seri, Lamborghini ha organizzato per noi una degustazione di prodotti tipici perché questo è un evento basato tutto sull'esperienza e quindi sulle sensazioni. E tra i prodotti di eccellenza toscani c'è l'olio di oliva. Ho imparato che per degustarlo serve portarlo a temperatura ambiente e poi tenerlo in bocca ispirando per poter sentire tutte le sfumature. E ancora che quello che si trova al supermercato, detto in soldoni, è una porcheria. Buono l'olio Evo ma io preferisco la Huracan Evo. Sono venuto lontano dagli altri per dire questa fesseria. Comunque pranzo leggero prima di rimettersi in viaggio e poi via. Il clima non accenna a migliorare ma la situazione comunque sì perché sto per salire sulla STO e quindi mi godo un pochino di asfalto bagnato a bordo di questo polide da 640 cavalli. Non vi faccio vedere qual è la mia manovra per salire a bordo perché non è proprio un bello spettacolo. Rispetto all'asterrato lo senti da subito che questa è un'arma da pista. Rigida, brutale, furiosa, la Super Trofeo omologata è l'anello di congiunzione tra strada e circuito. Non sono solo quei 30 cavalli in più. Qua la trazione è solo sulle ruote dietro e la dieta a base carbonica la fa scendere a 1339 kg di peso a secco. Con i pad all'alvolante sembra quasi di sparare le marce del 7 rapporti doppia frizione. Colpi che vanno sempre a segno. Ma se c'è una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è la potenza dell'impianto frenante carboceramico. Per capirci per passare da 100 orari a 0 bastano 30 metri. Assurdo. E questo ti rende confidente anche quando il tempo fuori vorrebbe metterti i bastoni tra le ruote. E invece non sa che ti sta solo facendo un favore. 19.22 Praticamente 5 ore di viaggio quasi in interrotto. Finalmente siamo arrivati a Forte dei Marmi e chissà cosa ci aspetta per la cena. Sosta veloce in albergo e poi di nuovo in viaggio ma questa volta su un autobus. Location segreta. Adesso vi mostro l'umile dimora dove ceneremo stasera. Questa è Villa Alpebella la residenza estiva di Bocelli al confine tra Massa e Forte dei Marmi. E oltre all'architettura anche una storia affascinante. Negli anni 60 qui quando apparteneva a Oliviero Camparini il patron della dolce vita versiliana hanno transitato alcuni dei personaggi più celebri come Domenico Modugno, Charlie Chaplin o Alberto Sordi. Cena eccezionale e poi transito anche io verso il bus e verso il letto. Sempre se la porta si apre. Seconda giornata. Oggi si torna verso Sant'Agata quindi altri 300 chilometri circa. Ci aspettano delle sorprese ma non ho idea di che cosa. Però so con che cosa comincia la mia giornata. 10 anni e non sentirli, non sentirli affatto. Questa è l'ultima incarnazione della Huracan sterrato a parte e cioè la tecnica. Ed è un esempio perfetto di come un progetto studiato nei minimi dettagli sin dall'inizio possa resistere bene, anzi benissimo direi al passare del tempo. Anche qui stesso motore delle altre sorelle quindi il V10 5200 aspirato ma la potenza è quella della STO quindi 640 cavalli, 565 Nm di coppia, 0-100 in 3,2 secondi e velocità massima di 325 km orari e come sull'STO anche qua la trazione è soltanto sulle ruote posteriori che tra l'altro sono sterzanti e dunque l'angolo di sterzo cambia a seconda delle condizioni delle modalità di guida per renderla ancora più agile e reattiva. Curva dopo curva riesci a instaurare un rapporto intimo con lo sterzo della tecnica, un comando così naturale che il tuo corpo sembra seguire gli input delle mani senza alcun filtro e men che non si dica ti ritrovi in cima alle apuane. 12 gradi e mezzo, niente male per temperarsi di prima mattina e darsi una bella svegliata a parte che io mi sono già svegliato col suono di questi V10 pazzeschi ma devo dire anche con i V8 delle Urus che ci accompagnano e adesso parte una spedizione ancora segreta non ci hanno detto cosa faremo però considerando che siamo sulle montagne sopra Massa Carrara e che vedo dei Defender vecchia scuola laggiù diciamo che qualche indizio ce l'ho anzi se poi leggo sulle fiancate Marble Tour direi che non ci sono più dubbi. Defender è strada astra piombo per arrivare qua a Cava Valsora un'oasi naturale formata dall'acqua piovana a circa 900 metri d'altezza habitat perfetto per il tritone alpeste apuano e seguendo il tour guidato nel cuore della montagna dove filtra l'acqua pura della superficie ho imparato un po' di cose io ho decisamente sbagliato scarpe e poi come si taglia il marmo cioè con un enorme filo interdentale di metallo diamantato che di fatto sarebbe in grado di affettare in due una montagna solo che è meglio non esagerare con la dimensione dei blocchi perché poi vanno trasportati e ecco un'altra cosa che ho imparato il marmo ha un peso esagerato un solo metro cubo pesa 2600 kg per intenderci parecchio più di una Urus a proposito è tempo di rimettersi in viaggio questa volta verso Sant'Agata per ultima mi aspettava la Evo Spider e non penso che sia un caso perché io lo ammetto non sono un tipo che cerca sempre la prestazione pura la guida frenetica alla pista preferisco una bella strada di montagna o magari ancora di più una strada costiera e voi l'avrete capito Ultimate Huracan Drive significa che questa è la guidata definitiva l'ultima The Last Dance e allora poco male se rischia di piovere io questa guidata me la faccio come si deve e con la Spider ho danzato col suo migliore abito perché qua le sensazioni sono portate su un altro livello quello del vento sul viso anche della pioggia nel mio caso e del rombo del 5002 che ti fa vibrare i timpani come il migliore dei concerti rock e se non hai il tetto sopra la testa te li godi ancora meglio ma si sa dieci anni sono tanti per un'auto anche per una supercar e oggi è come se il futuro ci venisse incontro più velocemente come se il 2024 fosse già dietro la prossima curva The Last Dance infatti già perché la Huracan sta per uscire di scena o meglio sta uscendo di produzione non è certo un viale del tramonto chiaro piuttosto una walk of fame per un modello che ha fatto la storia di Lamborghini diventando il più venduto di sempre con 20.000 unità ora è tempo di voltare pagina e il 2024 è l'anno in cui l'erede si affaccerà sul mercato le voci dicono che sarà vuoto che sarà biturbo che sarà ibrida plug-in e che potrebbe toccare i 700 cavalli sarà fenomenale non c'è dubbio come tutte le Lambo ma non ci sarebbe potuta essere senza la Huracan e il successo che questa ha avuto dunque lei dobbiamo ringraziarla e celebrarla e ora che il sipario cala e tutto questo è finito mi rendo conto che per chi come noi è appassionato di auto sono stato in paradiso ed è questo il titolo che darò a questo video grazie grazie grazie